Esordisce come attrice nel 2003 con il film Edioti Seguo con la regia di Maurizio Fiume. Recita successivamente Emanuale d'Amore con la regia di Giovanni Veronesi nel 2005. In televisione prende parte nel 2005 a sabato, domenica e lunedì con la regia di Paolo Sorrentino nel 2009 e nel cast della nona stagione di Distretto di Polizia.